Nonna, sto facendo un film, ricordi? Cosa? La produzione non intende continuare a finanziare il suo film. Io non so come fate voi a essere così sereni. Daniel, secondo me un modo per trovare sti soldi lo troviamo. Sì, basta pensarci un po'. A cosa? Salve, signor regista. Ma con tanti ragazzi che c'erano, proprio con il mio vicino di casa ti dovevi mettere? Non ti devo nessuna spiegazione. Aspetta, Chiara. Chiara, sono cambiato, davvero. Non mi interessa più neanche il calcio, figurati. Davide, le persone non cambiano. E soprattutto tu. E comunque è vero. Sto girando un film e diventerò ricco. Lo spero per lei e per me. Così potrà pagarmi quei due mesi di affitto che ancora mi deve. Vuoi andartene di notte con una maschera da... No, non una maschera. Un costume. Un costume da supereroe. Pensateci, se si ruba un lato, questo mica può denunciare il furto dei soldi che lui stesso ha rubato, no? Per girare un film servirebbe una telecamera. E quella ce l'abbiamo. No che non ce l'abbiamo. Marco, la signora Morelli mi ha tolto praticamente tutto. Aspetta, tu vuoi rubare la tua telecamera alla tua produzione? Questa è rubare al 100%, Davide. Scusate, dovremmo farvi qualche domanda. Non la vogliamo, te la vuoi tu! Basta! Ma chiedi, mi te fanno? Robi Nudi? No. Chi sei? Davide. Lui, mio padre, e lui... Noi facciamo parte della grande famiglia delle forze dell'ordine. Fermi tutti, mani bene in vista. Fermo, marrano. Tu chi cazzo sei, Batman dei poveri? Vai, misterio! Rosa, ma che stai facendo? No, ti devi stupare. Mi spiocchi del tetto. Ve lo vedo, ecco perché sei soldo. Rosa! Attualmente stiamo cercando di acciuffare la banda dei supereroi. E adesso siamo l'Adi, ufficialmente! Ma ancora l'Adi? Siamo ricchi! Questa pistola è finta, c'è il tappo rosso. Guardi a sedere, vai. Mi scusi, ma la prossima volta che fai una rapina, il tappo io lo dipinto, no? Muoviti, metti i soldi in questa busta, veloce! Veloce! Oh, ragazzi, guardate! Dei signori raffinatori! Voi ho sempre voluto conoscere un ladro gentiluomo! Voi lo siete, vero? Questo film... Di che parla? Parla di un ragazzo che la sera fa il supereroi. Super? Il superamento delle auto in corsa in tangenziale. Davvero? Lasci 알려- un cambio per il suo superare e säger- un melodio dell'Adi... La tua stella è inizietà! Qualc다 per il suoú Longo sarebbe un termine. Ma viene un meno... Di ne 금邦... Direi pretended come tra i soldi? Po los servitiers... Due, due... Ore, fortune... Buonesi... Grazie a tutti.